Allora, andiamo a concludere questa prima parte del nostro TG con il collegamento per il calcio a mercato del Pescara con Massimo Profeta che ci dà un po' di ultime notizie. Buongiorno Massimo. Sì, buongiorno a te e a tutti gli amici di visione d'ascolto. Allora, intanto comincerei dal baby Marco Delle Monache, classe 2005, 17 anni compiuti, nazionale under 17, oggetto dei desiderata di diversi club importanti di serie anni. Ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, Fiorentina, Sampdoria, Juventus, soprattutto il Sassuolo nelle ultime ore. Ma attenzione, è fortissimo l'interesse del Borussia Dortmund, prestigioso club della Bundesliga. Notizia che abbiamo pubblicato nella serata di ieri, staremo naturalmente a vedere. Le altre trattative virtualmente fatte per lo scambio. Clemenza, Lescano con Lentella, il fantasista ex Juve, vicinissimo all'intesa sull'ingaggio col club Ligure. Come anticipato, la situazione si sarebbe comunque sbloccata anche senza il consenso di Clemenza. La scelta di Lescano era stata chiara da subito, malgrado il corteggiamento di Avellino, Monopoli, Foggia e Gubbio. Solo Pescara e così sarà. A Lescano si aggiungerà presto Cuppone, classe 97, ex Casertana e Potenza, ma di proprietà della Cittadella. La probabile formula, prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie B del Delfino. Decisi passi avanti per Simone Della Latta, 29enne Mezzala della Padova, che dal Delfino si assicurerà a titolo definitivo Michael De Marchi. Va limato lo stipendio di Della Latta, sul conguaglio il club Veneto potrebbe soprassedere, assicurandosi un bonus legato all'eventuale promozione del Pescara in serie B. Per Veroli, altro baby molto interessante del Pescara, classe 2003, diciamo subito che questo ragazzo nel mirino della Juve Under 23 del Benevento, attenzione perché questo pomeriggio ci sarà un vertice a Roma con i dirigenti della Roma, e saranno presenti Sebastiani e Delicarri per il 22enne regista Salvatore Pezzella, ex Siena Reggiana e Modena di proprietà della società giallorossa. Niente prestito, Delicarri punterà alla patrimonializzazione del calciatore. Il laterale Mancino Lorenzo Milani, classe 2001, abbiamo parlato tantissimo, con novizza di particolare, nelle ultime edizioni Marina sarà ufficializzato la prossima settimana, operazione a titolo definitivo dal Ponte Nera, ad un passo lo stesso Saccani, di proprietà del Sassuolo, ultima stagione nelle fila della Vis Pesaro, è un terzino destro e si continua a lavorare per l'ingaggio di Merola, che però deve prima rinnovare con l'Empoli. Col Monza nelle prossime ore saranno sottoscritti gli accordi già predefiniti, Sorrentino a titolo definitivo al club Brianzolo, con la stessa formula percorso inverso per il centrocapista, ex Vis Pesaro e Teramo Luca Lombardi e per il portiere Sommariva, in prestito con valorizzazione il giovane centrocampista greco Antonis Siatunis, classe 2002. Infine Marina, preoccupazione, preoccupazione a Teramo, queste sono immagini che si riferiscono a uno dei partiti di campionato della squadra biancorossa, proprio il derby contro il Pescara, c'è preoccupazione a Teramo, rischio iscrizione, domani infatti in tarda mattinata la Covizoc comunicherà i nomi dei club esclusi dal prossimo campionato di Serie C, ci sarà tempo per inoltrare il ricorso entro e non oltre le 19 di mercoledì 6 luglio, in caso di ulteriore bocciatura il collegio di garanzia del CONI ci sarà e poi in ultima istanza il TAR, quasi certamente, purtroppo il Teramo sarà almeno inizialmente escluso dalla Covizoc, non avendo rispettato l'indice di liquidità. Ricordiamo che dal punto di vista societario è stata una stagione molto travagliata, il Tribunale di Roma, come è noto, aveva bloccato i fondi dei Ciaccia, ma non impedito la vendita a terzi del pacchetto azionario. Staremo a vedere, è tutto, la linea torna a te.